Api fritte! Ben! A mai più! Godetevi pure l'ultimo mie che l'umanità potrà mai avere! No, 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 no! Un mondo senza api! Non potrò mai vivere in un mondo del genere! Qual è il problema? Senza punture sarebbe un mondo perfetto! Ben, non essere così egoista! La tua fobia non può impedirti di fare l'eroe! Le api sono più importanti di quanto pensi! Impolinano fiori, frutta... Non importa, quella roba non mi piace! Aiutano anche a far crescere il grano! E senza grano non ci sarebbe il pane per gli hamburger, la farina che serve a fare la pizza e anche il pane per gli hot dog! Oh no, quelli sono i miei tre cibi preferiti! Nessuno può far sparire gli hot dog tranne il mio stomaco! Posso riempire questo barattolo? Sai, nel caso tu perdessi e restassimo senza miele... Eh, stavo parlando di cose serie! Solo un pochino! Ah, eccolo qui! Diamoci da fare! Per avere di nuovo le nostre api ci serve il bracciale di Ape Regina! Che soddisfazione! Sono una meraviglia! Ape Regina, le tue idee sono sempre a perfette! No, è un gioco di parole terribile! Meglio, sono sempre mielavigliose! No, questo l'ho già usato una volta! Ah, fa niente! Quando governero il mondo avrò mille schiavetti che mi scriveranno i giochi di parole! Ehi! Come vi siete permessi? Tenetevi forte! Oh oh, ha preso la vecchia carretta! Adesso gliela faccio lasciare io! Portiamo a casa la vittoria! Il serbatoio di miele si è quasi svuotato! Che formicuzza noioso! Uh! Prova a pulgermi adesso! Mi scusi! Lei sta superando i limiti di velocità! Dovrò farla accostare! Provaci pure, pulce! Prezzo per te! Corpo dinarico ipersonico! Il serbatoio di miele si è quasi svuotato! Ehi! Prendi questo! Cavoli! Detesto le api! Prendi questo, mostro bislacco! Ti consiglio di metterci un po' più di impegno! Non sento niente con l'armatura! Pensi che una normale puntura faccia male? Prova questo! Ben! Nonno, dobbiamo aiutarlo! Ci sono! Spingiamo la carretta al maximo! Ciocco, ragazzino! Sono invincibile col mio braccialapetto! Buona tornata! Che accidenti è questa robaccia aliena? Così va molto meglio! Sto correndo sotto terra! È fantastico! Sorpresa! Sì! 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 L'ho preso! Sai, Gwen, stavo pensando che le api non sono tanto male, sono carine, in modo un po' strambo. Forse un giorno riuscirò a tenerne una. Ma non oggi! Mmm! Non mi pungono! Bene così! E a questo punto mi chiedo perché avessi tanta paura! Perché sei un mollaccione! Beh, un mollaccione sarebbe riuscito a recuperare le api da solo? Io non credo! Una missione sotto copertura? Ferma! Dove stai andando? Non posso venire con voi! Certo che no! Noi dobbiamo portare a Peregina alla polizia e tu devi riportare le api! Già, non posso guidare con quelle nel camper! È pericoloso! Non voglio che mi pungano! Ah, puoi farcela, eroe! A più tardi! A più tardi! A più tardi!